Piogge temporali ma non si attenua l'ondata di caldo sulla nostra regione. Continua infatti l'invadenza dell'anticiclone nordafricano che con la sua aria calda ha investito tutta l'area mediterranea ed in particolare la nostra penisola in una situazione che dopo maggio e giugno più autunnali che primaverili appare decisamente anomala. L'anomalia si c'è, sta nel caldo, nel caldo intenso anche se siamo in estate, però comunque anche nella nostra regione abbiamo visto punte di 40 gradi. Quindi sì, possiamo parlare anche di anomalia per quanto riguarda le temperature. Scendendo nell'attualità anche le previsioni del weekend parlano di una situazione fuori norma. Sabato si prevede, un po' come è successo al nord ma non con quelle intensità, la possibilità di qualche rovescio temporale. Perché? Perché l'area un po' più fresca, atlantica, è entrata dai settori occidentali, quindi andando in contrasto con questo caldo già accumulato potrebbe dare origine a dei rovesci temporali e forse qualche grandinata, non è esclusa. Una previsione che dunque non lascia del tutto tranquilli, anche alla luce di quanto visto in questi giorni in nord Italia. Difficile prevedere però sia l'intensità che la localizzazione di questo genere di fenomeni. Nonostante i temporali, tuttavia con temperature elevate come quelle attuali, la situazione dovrebbe cambiare ben poco. Un calo delle temperature non so se si avvertirà. E poi c'è anche il fatto che dovrebbe alzarsi un vento caldo dai sibillini, quindi questo potrebbe attenuare la sensazione di sollievo. Poi però tra domenica e lunedì e i primissimi giorni, la settimana prossima, è previsto una nuova rimonta dell'alta pressione nord africana e quindi un nuovo aumento delle temperature con conseguenti condizioni di AFA. Ci aspettano insomma altri giorni di AFA, questo almeno fino alla prima parte della prossima settimana. Poi da mercoledì è previsto l'arrivo di un'altra perturbazione atlantica, probabilmente di intensità ancora maggiore.